La trasformazione digitale ha portato, grazie anche all'RPA, a vedere i bot come componenti fondamentali dei processi di business. Questo ha fatto sì che la tecnologia si sia avvicinata al business e il business alla tecnologia. Qui nascono i centri di eccellenza. Noi come OT Consulting proponiamo e supportiamo i nostri clienti con un centro di eccellenza interno e noi stessi abbiamo dovuto portare in casa e unire competenze che vanno dall'aspetto organizzativo all'aspetto di sviluppo dei bot fino ad arrivare al machine learning. Tutto questo poi circondato dalle tematiche di process mining secondo noi fondamentali. Quindi diventano un po' delle isole felici dove IT e business collaborano. Questa è una bellissima domanda che solitamente ci fanno quando ci dicono ma dobbiamo costruire questo ufficio perché alla fine è un insieme di persone che si uniscono in un ufficio nell'IT o nel business. Noi quello che preferiamo dire non è né IT né business, è un insieme di obiettivi che vanno dal identificare quali sono i migliori processi candidati per l'efficientamento per poi andare a attuare interventi di RPA piuttosto che di machine learning e identificare poi la miglior tecnologia da applicare e tutto questo poi anche con tutta una serie di politiche di governance che sono da portare avanti. E queste competenze sono sia IT che business. Si pensi ad esempio a soluzioni di RPA che oggi ti permettono come Automation Anywhere di non avere grosse competenze spinte IT e quindi ti permettono di avere anche un numero maggiore di persone che hanno soft skill IT rispetto a grandi competenze di processo e business. Secondo noi il process mining è chiave, è uno degli aspetti fondamentali che il COE dovrebbe avere assolutamente. Noi proponiamo una soluzione di process mining che è mai in vigno e che permette di identificare e analizzare i processi prima di iniziare con gli interventi digital, andare a simulare quello che è il migliore scenario di efficientamento poi se si pensa a tutte le politiche agili di sviluppo permette in un secondo momento di mantenere monitorato costantemente monitorato quelli che sono gli interventi di automazione che sono stati approntati in modo tale da gestire veramente quello che è il concetto di monitoraggio continuo dei processi e del business.